Risultato elettorale e competenze sono stati i criteri con cui il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha scelto i componenti della sua giunta e assegnato le deleghe. De Martinis ha spento le polemiche sulle quote rose in giunta, accelerando i tempi previsti e nominando una terza donna, l'Udc Damiana Rossi, che ha completato così la squadra di governo, dando il via alla nuova consigliatura De Martinis. Per quanto riguarda le deleghe, il vice sindaco sarà Paolo Cilli, che ha anche l'assessorato alla sanità, la protezione civile, società partecipate, ambiente, igiene urbana, attuazione del programma, servizi cimiteriali e contenzioso. Deborah Comardi invece avrà ancora una volta bilancio e finanze, tributi, informatizzazione, progettazione comunitaria, rapporti con enti sovraccomunali e si occuperà anche di turismo, manifestazioni ed eventi. A Barbara e Di Giovanni la pubblica istruzione, gli asili nido e l'associazionismo, la riflessione scolastica, le politiche sociali e la famiglia. A Damiana Rossi la polizia locale, la viabilità, le pare opportunità, il personale, i lavori pubblici e l'edilizia scolastica. Antony Agliano avrà l'urbanistica, la riqualificazione urbana, il demanio, la città metropolitana per affrontare al meglio il passaggio alla grande pescara, poi la mobilità sostenibile e lo sviluppo economico. Ad Alessandro Pompei il sindaco affidato manutenzione e servizi, sport ed eventi sportivi, politiche ed eventi giovanili, impiantistica sportiva. Paolo Di Blasio sarà l'assessore al verde pubblico, al patrimonio, alla valorizzazione dei beni comunitari, politiche della terza età, politiche energetiche, pubblica illuminazione e realizzazione di un nuovo cimitero, commercio e suap. Il sindaco Ottavio De Martinis ha mantenuto per sé la cultura, le politiche della disabilità, le politiche della casa, la gestione del palacongressi, il benessere animale e la sicurezza dei cittadini, deleghe che potrebbero essere affiancate anche da alcuni consiglieri comunali. Sindaco, il giorno della proclamazione degli eletti mi ha detto io la squadra ce l'ho già in mente, questa squadra di governo è la sua, quella che aveva in mente allora? Sì, c'erano due possibilità, questa la seconda e sono contento che in qualche modo si sia divenuti in tempo record anche alla giunta dell'ultima componente che in sede di Consiglio Comunale non era stata ancora espressa dal gruppo Forza Italia ODC. È un motivo ovviamente di soddisfazione alla misura in cui possiamo partire al completo, cosa che già abbiamo fatto questa mattina con la convocazione di un'aggiunta. Ecco, nella prima aggiunta di cosa avete parlato nello specifico? Parlato dell'estate, di tutto quello che necessita una stagione turistica importante come quella che è alle porte, abbiamo predisposto dei mezzi sia economici che strutturali al fine di regalare alla città un'estate importante e questa mattina è stata anche approvata una importante delibera che prevedeva la rottamazione che ha una scadenza del 30 giugno e che riteniamo essere uno strumento utile per la città. Fuori da questa aggiunta sono rimasti nomi eccellenti a partire dall'ex sindaco Maragno, cosa si aspetta? Il loro contributo ci sarà? Allora, in realtà presumo di sì o almeno per quello che riguarda la componente UDC, ossia Lino Ruggero e Walter Cozzi con i quali ho parlato ieri e mi hanno assicurato massimo sostegno. Il sindaco di Maragno è stato contattato da giorni come tutti gli altri e vediamo un attimino qual è il suo atteggiamento a seguito di una nomina che è comunque stata condivisa, così mi dicono, gli altri due componenti UDC.